E' mercoledì 19 febbraio, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale questa mattina in regia Daniele Ricciuto. In apertura parliamo di politica perché è arrivato alla giunta per le elezioni della Camera dei Deputati il ricorso presentato da Mario Pietracupa per la sua elezione a Montecitorio al posto di Giuseppina Occhionero o di Antonio Federico, una questione non solo politica ma anche molto tecnica dal punto di vista procedurale. Ricordiamo che Mario Pietracupa, presidente della fondazione Neuromed, era candidato alla Camera per Forza Italia. Ci dice tutti i particolari Enzo Di Gaetano. I grillini nel 2018 avrebbero maturato in Molise il diritto a un quinto seggio nel proporzionale alla Camera ma non essendoci un quinto candidato, l'ufficio circoscrizionale invece di attribuirlo all'attestamento per scivolamento lo trasferì alla circoscrizione pugliese facendo erroneamente scattare un seggio in più per il Movimento 5 Stelle in Puglia. E' la tesi portata avanti nel ricorso presentato da Mario Pietracupa, candidato molisano di Forza Italia. A due anni dal voto delle politiche, la giunta per le elezioni della Camera ha sul tavolo decine di ricorsi da valutare e la vicenda del candidato molisano è al centro di un rebus procedurale di assegnazione dei seggi che rimbalzano tra uninominale e proporzionale. Una vicenda che tira in ballo almeno altri tre candidati. Giuseppina Occhionero, eletta nella lista l'EU, poi passata in Italia Viva. Antonio Federico, candidato per il Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale del Molise Campobasso, proclamato eletto. Infine Rosa Alba Testamento, anche lei candidata grillina nel collegio uninominale del Molise Isernia ed eletta. Pietracupa, risultato il primo dei non eletti nel collegio uninominale, ricorre alla giunta segnalando come Federico e Testamento siano stati candidati anche nell'unico collegio plurinominale molisano, determinando un'illegittima applicazione della legge elettorale. Rispetto al seggio assegnato all'Occhio Nero e rivendicato da Pietracupa, viene contestato il fatto che ci sia stato un erroneo slittamento del seggio uninominale della lista del Movimento 5 Stelle dal Molise alla Puglia, determinato dai calcoli errati effettuati dall'Ufficio Elettorale Centrale Nazionale. Nella vicenda Pietracupa entrano in campo tanti uffici. Dapprima l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Campobasso, che secondo il ricorrente invece di attribuire il seggio del collegio uninominale al primo dei non eletti, come previsto dalla legge, lo ha attribuito nell'ambito del collegio proporzionale. Non solo, Pietracupa si rivolge all'Ufficio Elettorale Circoscrizionale per la Camera che gli rifiuta l'accesso agli atti. Poi l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso la Corte d'Appello di Campobasso gli risponde che non gli verrà concessa l'assegnazione del seggio residuo della circoscrizione, rilevando che i due posti uninominali sono stati già incontestabilmente assegnati ad altri candidati. Quanto a quell'unico del collegio plurinominale, l'Ufficio fa sapere a Pietracupa che non può disattendere la comunicazione dell'Ufficio Nazionale sull'attribuzione del seggio e della lista nel collegio plurinominale. Un vero rebus che finisce sul tavolo della Giunta di Montecitorio. Una legge elettorale perlomeno contraddittoria, per fare un esempio, che è stato candidato all'uninominale blindato, è stato messo poi nel proporzionale. Nel caso delle donne, per rispettare la parità di genere, è stato permesso lo slittamento. Proprio quello che, per il ricorso di Pietracupa, avrebbe dovuto far scivolare l'attestamento al proporzionale, permettendo così la sua elezione all'uninominale, invece di far passare l'ulteriore seggio maturato dei grillini, dal Molise alla Puglia. E parliamo adesso di Campobasso in Love. La manifestazione che si è svolta nel capoluogo e che è culminata a San Valentino con il bacio degli innamorati alla Torre Terzano. Un momento molto suggestivo che ci racconta Tonino Danese. L'amore di Fonso è delicata, attraversa il tempo, si rinnova e rivive nel bacio di centinaia di coppie. L'amore è diventato leggenda, simbolo di una storia, una città, l'amore che supera le divisioni, le lotte, il sangue e anche la morte, diventando eterno. San Valentino, anche quest'anno a Campobasso, ha avuto il momento clou nel luogo simbolo dell'unione sentimentale tra i due giovani dei Trinitari e Crociati, che mezzo millennio fa sfidarono odio, rancore e lotte. Davanti al Torre Terzano, dove Delicata fu tenuta prigioniera per evitare di essere rapita dal suo amore Fonso e poi morì nel centro storico, c'è stato il suggestivo flash mob, il bacio di Fonso e Delicata, in cui gli innamorati si sono scambiati un bacio lungo un minuto sulle note della musica e sotto una pioggia di coriandoli, uno spettacolo di colori, suoni ed emozioni da ammirare anche con il naso all'insù e gli occhi al cielo. La voce di Daniela Poggi, poi testimonial di Campobasso in Love 2020, per raccontare la storia struggente dei due innamorati, una storia eterna. L'edizione di quest'anno ha visto l'organizzazione di Confcommercio e associazione Pro Crociati e Trinitari per le rievocazioni storiche molisane con il sostegno del comune di Campobasso. Storia, tradizione e valorizzazione del commercio e i luoghi della città, gli obiettivi dell'evento, attraverso tante iniziative nelle attività commerciali che hanno aderito il concorso Vetrine in Love, la promozione di pacchetti di soggiorno per i turisti. Molise addio, è questo il titolo della puntata di Millibar in Onda. Questa sera alle ore 21 la trasmissione sarà dedicata alla ipotesi di separazione dal Molise e ricongiungimento con l'Abruzzo di alcuni comuni della costa. Ospiti in studio saranno il presidente del comitato in difesa dell'ospedale Santimotio di Termoli, Nicola Felice e la dirigente nazionale del Partito Democratico, Laura Venitelli. Bene, con questo è tutto per l'informazione, adesso passiamo alla rassegna stampa. E andiamo subito a vedere la home page del giornale del Molise. Droga dopo le condanne parla il procuratore D'Angelo, reati per 120 anni di carcere. Questo il pezzo di apertura del giornale del Molise. Vediamo adesso le altre notizie in evidenza. Anfiteatro e Villa Zappone, visite guidate in occasione del Carnevale di Larino. Pensioni di invalidità Calenda dice impossibile vivere con 285 euro al mese. Il 3 marzo la manifestazione in difesa della sanità pubblica ha organizzata una petizione popolare per sfiduciare il Consiglio. Olio contraffatto venduto ai ristoranti per extravergine, tre denunce. Allarme furti a Baranello, quattro villette, prese di mira, indagano i carabinieri. Andiamo avanti con le notizie in evidenza. Pozzilli, Unilever, quattro progetti per il rilancio dello stabilimento. La morte poi di Flavio Bucci, stroncato da un infarto, è morto l'attore di origini molisane. Andiamo adesso a vedere la prima pagina di Primo Piano Molise. Questa mattina l'apertura è dedicata alla cronaca giudiziaria. Termoli Jet, l'ex giunta Iorio, condannata, deve risarcire la regione per 3 milioni e mezzo di euro. Il catamarano fu acquistato per collegare Termoli alla Croazia, ma rimase agli ormeggi. Scelta manifestamente priva di ragionevolezza, scrivono i giudici della Corte dei Conti. Per i magistrati la responsabilità in via principale è dell'ex assessore Chieffo e di un dirigente dell'epoca. Restiamo a centro pagina, sempre su primo piano, con la morte di Flavio Bucci. Se ne è andato un altro grande. Il Molise piange Flavio Bucci, scrive il giornale. Originario di Casa Calenda, l'attore è morto a Fiumicino per un malore improvviso. L'indimenticabile Ligabue ha recitato con sordi e per Sorrentino aveva 72 anni. Andiamo in taglio alto adesso. Da Isernia tutti pazzi per il plesso di San Leucio, iscritti più scolari dei posti disponibili. I genitori affilano le armi. Come si decide chi ammettere? Vicenda Unilever. Il 25 febbraio, nuovo vertice al Ministero. Martone della Cisal dice restiamo uniti, l'azienda ha tradito la fiducia dei lavoratori. Le altre notizie. Da Baranello, quattro furti tra le 19 e le 20, rubati preziosi e contanti da Isernia. Droga, arrestate una pusher 44enne e la sua complice. Nas in azione. Olio miscelato a clorofilla e beta carotene venduto per extravergine nei guai commerciante foggiano. Da Termoli, un'auto e un furgone coinvolti in un brutto incidente. Tre feriti sulla tangenziale nord. Vediamo le notizie sportive adesso. Campobasso, la grande emozione di Brenci. Gol atteso per esultare sotto la curva verso il derby. L'Agnonese vuole recuperare fra botta in casa Vasto Girardi tanta attenzione. Fuzzal Rosa, il CLN Cusmo Lise, atteso sul campo del Grifo Perugia. Dopo quelli locali andiamo adesso a vedere i quotidiani nazionali. Iniziamo dal Corriere della sera che ha in apertura le vicende legate al governo. Conte alla sfida con Renzi. Questo è il titolo di apertura. L'Ite sulle intercettazioni poi tregua. Il Premier pensa a una verifica in Parlamento. Resta alta la tensione sulla giustizia, scrive il Corriere. Oggi la fiducia sul mille proroghe. Due parlamentari passano a Italia viva. Andiamo a centropagina. Bucci, l'attore dimenticato che ci fece scoprire l'Igabue. Si parla della morte a 72 anni di Flavio Bucci. L'ultima intervista dove dice non ho soldi, vivo in una casa famiglia. Poi di spalla una notizia che arriva dalla regione Calabria. Il capitano ultimo assessore mascherato nominato da Santelli Sergio De Caprio, detto anche capitano ultimo con la presidente della Calabria Santelli che lo ha nominato assessore all'ambiente. E lasciamo il Corriere per passare a vedere la prima pagina di Repubblica. Anche qui la politica in primo piano. Operazione salva Conte. Il destino del governo, scrive Repubblica. Un gruppo di senatori lascia a forza Italia. L'ex ministro Romani dice saremo interlocutori dell'esecutivo. Renzi pronto a sfidare il presidente del Consiglio. Non mi rappresenta più o cambia o farà a meno di noi, dice l'ex primo ministro. Il premier poi aggiunge a commento della vicenda. Se Italia Viva vuole uscire affrontiamo la crisi in Parlamento. Andiamo a centropagina dove si parla del coronavirus. Contagio in crociera. L'italiano ha 72 anni sulla nave. Situazione fuori controllo. Questa la sua dichiarazione. E passiamo adesso da Repubblica al Fatto Quotidiano che anche questa mattina ha in prima pagina uno dei suoi temi e bersagli preferiti. Matteo Renzi. Renzi più guai. Penali che voti. Questo il titolo che fa il quotidiano di Marco Travaglio. Da Consip all'Air Force si indaga per truffa. Il GIP fa pezzi. Le nonne, scrive il Fatto. Indagini romane su Papattiziano, Lotti, Verdini e Company. Svolta nell'inchiesta sull'aereo blu costato 26 volte il suo valore. E lasciamo il Fatto Quotidiano per andare invece a vedere la prima pagina dell'avvenire. Bari Mediterraneo, scrive il quotidiano della conferenza episcopale italiana in apertura. Comincia oggi il G20 dei Vescovi di 20 paesi legati al Mare Nostrum, al centro dell'incontro c'è l'urgenza della riconciliazione fra tutti i popoli. A tema il martirio dei cristiani di Libia, Siria, Iraq e le sofferenze in Terra Santa, Turchia e Bosnia. Vediamo poi una notizia che ritroveremo anche sui quotidiani economici. Si parla della mossa di intesa su Ubi verso un colosso bancario. Un'offerta da 5 miliardi per fare il quarto gruppo europeo, il sì di borse e BCE. E dall'avvenire trasferiamoci al mattino di Napoli. Campania costa chiama il PD, De Luca si appella alle sardine. Il mattino parla delle prossime elezioni regionali in campagna. Regionali il ministro dice sì alla candidatura del Movimento 5 Stelle ma va allargato il campo. I dem pronti a trattare il governatore uscente dice al Movimento delle Sardine dialoghiamo. E dopo il mattino passiamo al manifesto. Pentola a pressione scrive in apertura il quotidiano comunista con riferimento alle vicende del governo. La guerra dei nervi scatenata da Renzi si mimetizza con un doppio voto di fiducia. Oggi sul decreto mille proroghe e tra oggi e domani sulle intercettazioni. Ma ormai il fuoco amico contro il governo è un crescendo dalla prescrizione alle nomine alle elezioni regionali. Vedremo quindi come andrà a finire questa vicenda. In taglio alto invece si parla di coronavirus. Calano i contagi scrive il manifesto. Mosca però chiude le frontiere ai cinesi. Passiamo ora al secolo d'Italia. Il quotidiano della destra ha la politica in prima pagina. Menano solo Renzi 5 Stelle schierati contro Gualtieri nel collegio per la Camera. Ma Zingaretti il leader del partito democratico non gli dice nulla. Vediamo ora il messaggero migranti. Scudo per i ministri. Questo scrive in apertura il quotidiano romano. Decreti sicurezza. Per evitare altri casi Salvini il premier risponderà degli atti del Viminale. tregua sulle intercettazioni. Oggi la fiducia. Scontro Conte-Renzi. Due arrivi per i gruppi d'Italia viva. A centropagina la morte di Flavio Bucci. Bucci vita maledetta di un attore di talento. Questo è il focus e la retrospettiva che fa il messaggero. Questa mattina muore in povertà l'interprete. Mito del Ligabue in tv. E dal messaggero passiamo all'altro quotidiano romano. Il tempo. Zingaretti paga le amiche del PD. Scrive il tempo. Come buttare i nostri soldi. Il presidente della regione offre 700 mila euro annui alla casa delle donne di Maura Cossutta. Da anni lei si occupa abusivamente un immobile. Atac e Virginia Raggi la voleva sbattere fuori. Vediamo poi le vicende politiche che riguardano il governo. Governo in bilico. Scrive il tempo. Due ingressi in Italia. Viva. Avviso di sfratto a Conte. Renzi in Parlamento. Fa campagna. Acquisti. E dal tempo andiamo alla prima pagina di Libero. Altra scemenza del governo. Scrive il quotidiano fondato da Vittorio Feltri. Regaliamo metano ad Albania e Grecia. Ha votato lo stop alle trivellazioni a largo dell'Adriatico. Così il gas lo estrarranno ai nostri vicini e ce lo venderanno a caro prezzo. A centro pagina invece anche qui uno dei bersagli preferiti del di Libero. La ministra dell'interno santifica Carola la capitana. Nuove regole favorevoli alle ONG. E questa è la polemica che fa Libero questa mattina. Andiamo a vedere la stampa adesso. Governo Conte sfida Renzi. Lo aspetto in Parlamento. Accordo sulla giustizia. Ma Italia Viva minaccia la rottura. Il Premier è pronto a chiedere la fiducia in aula. Restiamo sempre sulla stampa. Intesa Ubi carica la borsa. Riparte il risico bancario. Messina il capo di banca intesa dice campioni europei. Oggi CDA degli assediati. E lasciamo la stampa proprio per andare adesso a vedere con il sole 24 ore le notizie economiche. IRPEF alto là dell'Inps con il taglio alcuneo. Difficile fare la riforma. Questo è il titolo principale del quotidiano di Confindustria che poi chiaramente parla in prima pagina di questa vicenda che riguarda il settore bancario. Messina il capo di banca intesa dice con intesa Ubi nasce un campione europeo nei ricavi. E staremo a vedere le evoluzioni di questa vicenda. Andiamo invece adesso a vedere la prima pagina della verità. Consip altro che complotto contro Renzi. Il GIP dice non hanno indagato sul gran capo. Questo è il titolo principale che fa il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Il rottamatore parlava di intriga e i suoi danni ma il giudice alza il tiro e chiede di iscrivere l'ex alleato. Verdini nelle carte aspre critica gli inquirenti rilievi inadeguati su alcune telefonate partite da Palazzo Chigi. Poi a centropagina una fotonotizia che ritrae Papa Francesco e Padre Georg. Senza Padre Georg Papa Francesco è più forte ma isolato. Questo scrive in prima pagina questa mattina la verità. E in chiusura della nostra rassegna stampa. Come di consueto diamo uno sguardo alle notizie sportive. Pagina molto ricca questa mattina. Il titolo di apertura parla della Juve. Svolta sarrista le scelte del tecnico. Ecco la Juve rivoluzionata che affronterà la fase decisiva della stagione. Dentro Chiellini niente trequartista di bala con CR7. Poi si parla di Champions League perché stasera c'è l'andata degli ottavi Champions. Bergamo a San Siro. Atalanta per la storia col Valencia. A Milano in arrivo 40.000 tifosi. Poi di spalla si parla dell'Inter. Conte rimonta Scudetto in quattro mosse da Eriksen ad Andanovic. Il tecnico è la ripartenza. E anche qui staremo a vedere le vicende dell'Inter. Bene con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti. Buona giornata.